Il sistema SIX per la gestione della strumentazione chirurgica è un prodotto creato per garantire la completa tracciabilità dei kit chirurgici e del materiale imbustato normalmente trattato nelle centrali di sterilizzazione, assicurando parallelamente sia il mantenimento di un elevato livello produttivo che il completo rispetto di tutti gli standard di sicurezza necessari. SIX è un sistema tecnologicamente avanzato per infrastruttura e tecnologia dello sviluppo. L'utilizzo della tecnologia Java lo rende un prodotto completamente web nativo e fruibile da qualsiasi postazione dotata di browser internet sia all'interno della centrale che da eventuali postazioni all'esterno raggiungibili in modalità sicura. L'infrastruttura del sistema è modulare e consente di partire da una versione base fino ad arrivare ad una struttura più articolata per centrali di sterilizzazione complesse nel rispetto delle specifiche procedure e metodologie in uso. Il sistema dispone inoltre di un'interfaccia automatica di collegamento con tutti i principali dispositivi in uso nei comparti di produzione. L'operatività di centrale è gestita tramite procedure guidate, supportate da interfacce semplici e intuitive che consentono agli operatori di fruire delle sole informazioni di propria competenza. L'infrastruttura hardware a supporto del sistema è minimale e comprende semplici personal computers dotati di browser e internet per il collegamento web al sistema, monitor touchscreen per l'inserimento e la registrazione dei dati, lettori barcode o data matrix per la lettura delle etichette e dei codici dello strumentario chirurgico, stampanti etichette barcode e laser per la stampa dei documenti. Attraverso l'utilizzo del sistema SIX è possibile pianificare e monitorare globalmente tutte le fasi del processo produttivo interno alla centrale di sterilizzazione. Accettazione sporco, decontaminazione del materiale, lavaggio, confezionamento del materiale in kit, in container o come materiale imbustato secondo le specifiche definite in fase inventariale. Sterilizzazione del materiale effettuata sia internamente che in strutture esterne con tracciabilità e monitoraggio delle operazioni e l'attribuzione dello stato corretto del materiale chirurgico caricato nell'autoclave. Spedizione del materiale sterile, accettazione dei kit ricevuti in reparto sala operatoria. Il risultato tangibile è la completa tracciabilità di risorse e materiali in tutto il processo attraverso specifici controlli e attività, nonché un miglioramento dell'efficienza operativa e una condivisione delle informazioni con le strutture di destinazione. Grazie a tutti!